Mancano ormai pochi giorni al voto delle amministrative, vorrei davvero fare un grande bocca al lupo al candidato sindaco Giuseppe Zanon di Vigonza, a tutti i candidati del Partito Democratico e in particolare a Fabio Pergini Rizzato. Vorrei davvero che in queste amministrative si possa marcare una differenza, un segno di una politica buona che riesce in qualche modo a dare le risposte ai cittadini e quindi vorrei davvero che il Partito Democratico di Vigonza facesse un bel risultato e che i consiglieri comunali eletti fossero davvero tanti. Un grande bocca al lupo a tutti.